Sì, sono Lucia, io ho frequentato liceo scientifico e ho fatto l'educazione sessuale fra bambini, tra le cose di scienze e i psicologi dell'anno e di questo. Io ho già abito in Svizzera, i miei figli seguono i posti di educazione sessuale a partire della mia terra, mi sa che ci l'hanno fatto bene e lo spazio. La chiesa, la cedebre di credere, quindi un audio non si trova di fronte e ha la propria offenza e quindi un audio di scelta o più in base, è a quello di Svizzera. La visualità e il reale convenienza. Alcuni esempi, quanto tra i tuoi cucchioli? Un litro e mezzo, solo un euro. Non frutta, se c'è frutta, è un litro e mezzo, solo un euro. La cedebre di credere, la protezione sessuale fra bambini, da 75 milioni di litri, solo un euro. Sì, ricordiamo che anche questa edizione del genere, abitudine, è diventata un reflectede. Anche lui? Con da Sandung? E salete? Sa? Mè vero che Orsteen è inl Fenne? l'italia Mi sento bene, mi senti bene Tu ti occupi del teatro, dei miei teatri Pensi che siano fattibili queste armi che vengono le chieste? No, non lo penso affatto Infatti noi siamo chiusi, resteremo chiusi E io ovviamente la prendo come una mossa di... Un po' perché il 15 di giugno i teatri al chiuso normalmente vanno a scendere le proprie stagioni E si preparano le sture all'aperto Ma un po' perché con questo... Non è vero di The Colors su Radio Tisquisse Così il piccolo stash diventa papà Ma che bello Questo mi fa capire che non è più tanto piccolo Oggi ho letto che c'è una città in Italia Che si trasformerà quest'estate in un palcoscenico C'è del punk e di un certo tipo di attitudine Che non era già il loro ultimo concerto con la line-up originale Un concerto che si intitola Lauderd Goose Lake August 8 1970 Che verrà pubblicato il prossimo 7 agosto Della Third Man Records Ed è che... Adio, non ti ha mai abbandonato A tutti... E' un nuovo video di partenza unica Di assieme... E' difficile da fare un'ordine Un'altra scampola E' respirare la storia di un apostolo aerea villoso Basta fare un salto assoluto soverina Qui, proprio sotto il famoso castello radianale Di uno dei borchi più belli d'Italia Per lui, la natura del re Da lui potrà essere powerati Una cos'era tipica calabrese Quelli del... No Buonasera, buonasera Mi cerco di interpretare la domanda della Marisa. Che cosa fa il responsabile della gestione operativa di un castello? Durante l'anno si occupa della cura del bene, coordina le operazioni di visita, di biglietteria e accoglie gli ospiti. Dove il signore del castello è bellissimo. E tu adesso che sei nel castello in che parte sei? Adesso mi trovo nell'automata della biglietteria ma sono all'ombra del Massio e sto ammirando i bignetti che sono in fioritura della vasta Vallagarina dove si produce un ottimo vino che è l'enanzio, il vino tipico della vasta Vallagarina e di Stabionara d'Avio. Turbulenti ovviamente perché la madonna ha detto a Liliana ti ho liberato cose terribili, quindi se nei segreti, specialmente da quarto al bicio sono sempre liberati a cose terribili e poi è chiaro che non si può certamente immaginare qualcosa e sono parole tremende. Non è capace, i carnici, non ritirvi questo. Noi come diciamo, i francesi discorsi avvocati... l'antimo che fa da appunto dalla bigliettura da giapertura e non riesco di attendere. Che sogno, che sogno! Va bene, terza e ultima situazione, salgo! E' un ecco bello adesso non serve... no, mi occupa di dire... ma non mi occupa di dire... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.